Ah, il Canada! Famoso per... Oh, Johnny! Il Canada è famoso per moltissime cose! L'hockey, il bacon, l'hockey e la cosa che più preferisco, la sanità gratuita! Ah, mamma, non ti serve ridurre i lobi delle orecchie, sei carina così come sei! Aspetta di vedermi dopo l'intervento, tesoro! Sarò affascinante come una star di Hollywood! Fantastico! Ma dovrai tenermi la mano finché l'anestetico non farà effetto! Va bene, mamma! Ehi, una gallinella canadese! Così, lei non è miss'ottobre del calendario gallinelle della tundra ghiacciata dell'anno scorso? Lasci perdere! Non posso farne a meno, io adoro le donne in uniforme! Senta, io non ho tempo per certe cose, sono alla ricerca di Slimey Pierre, il criminale più abominevole e spietato di tutto il Canada, chiaro? Ma certo, sono proprio uno stupido! Avrei dovuto corteggiarla magari parlando in... francese! Beh, facciamo una cosa, perché non te ne vai in giro per qualche ora nella foresta e aspetti che ti raggiunga? Magnifico! Bene, allora, a presto, masceri! Ti aspetto! L'ho fatta apposta Che tipo patetico Accidenti! Che strano posto! Sto camminando da parecchie ore! La gallinella a cavallo deve essersi persa! Ho una fame da lupo! Chissà se potrei vivere in una foresta secolare! Davvero stagionato! Cercati un altro albero! Ah, davvero? E con quale esercito? Questo potrebbe essere il momento giusto per raccontare di quando salvai la vita a un castoro E con quale esercito? Ah, i alla d'arrivi!